Ciao Tufi, buongiorno, come stai? Hai fatto i bisognini? Tufi ha avuto un po' di problemi con i bisognini, prima di attaccare me, prima vado a fare gli cent'anni, poi se vi rimane un po' di tempo, mi venite ad attaccare, prima vado a fare cent'anni di chi mi aveva fatto a me, a me solo, e poi nel caso mi venite ad attaccare, se ti resta un po' di tempo, non lo so, a disposizione. Andiamo?